La politica è un discorso, le istituzioni sono un altro discorso, le istituzioni italiane e le istituzioni francesi, quindi gli stati, al di là della politica sono ben saldi, ben forti, conoscono il loro rapporto che è storico, i popoli conoscono il loro rapporto che è storico, anche questa città oggi come Napoli ha rapporti enormi con città francesi e con Parigi. Io sono molto tranquillo da un punto di vista di tenuta dei contorni e delle cornici istituzionali che esistono in Italia, abbiamo la nostra Costituzione, esistono in Francia, hanno la loro Costituzione e da questo punto di vista noi ci parleremo sempre.